Una damma particolare quest'anno in occasione dei mille anni di Conegliano. Direi un festival, sono stati molto bravi perché hanno organizzato due settimane di animazione con un filo conduttore mettendo in campo energie a non finire e anche fantasia a non finire perché dalle manifestazioni del fine settimana scorso alle animazioni della contrada e della piazza alla manifestazione ieri sera tra l'altro molto suggestiva con i fuochi nella notte che ha sicuramente colto l'attenzione della gremitissima piazza perché va detto che la piazza era veramente gremita e poi ovviamente oggi pomeriggio c'è questa manifestazione conclusiva dedicata proprio ai mille anni della città. Direi che per quanto riguarda la damma castellana negli ultimi anni va proprio valorizzato questo aspetto cioè il fatto che la manifestazione è una manifestazione unica, non è una manifestazione ripetitiva perché di anno in anno ha una trama diversa, ha un contenuto diverso, ha anche degli obiettivi diversi e quindi chi partecipa alla manifestazione dell'anno e quindi di quest'anno sa che partecipa ad uno spettacolo che è unico e irripetibile.